Valentina Casi è direttrice del Museo dei Mezzi di Comunicazione. Come si inserisce questa esposizione nell'ambito dell'attività del museo? Per il Museo dei Mezzi di Comunicazione il 2020 è stato l'anno dedicato proprio alle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini. Ovviamente un 2020 partito sotto tono perché la mostra in realtà quella principale al museo è stata aperta solamente 5 settimane e per la riapertura abbiamo deciso assieme alla Fondazione Arezzo in Tour di rilanciare sia quella che è l'attività del museo sia la presenza in questo punto di accoglienza di grande arrivo di afflusso per la città con un altro step dedicato proprio a Fellini. Due punti di esposizione differenti, quella al centro accoglienza turistico dedicata alle attività di Fellini sulla televisione, quella all'interno del museo che è la mostra principale che resterà comunque in parallelo e sarà prorogata fino a dicembre 2021 sarà dedicata principalmente invece alle attività cinematografiche del grande regista. Vogliamo ricordare chi ha collaborato alla organizzazione di questa mostra? La mostra è realizzata principalmente dal museo con la Fondazione Arezzo in Tour, poi sono molti patrocini perché comunque l'attività museale è sempre volta a connettere tutte quelle che sono le realtà culturali attive all'interno della città e non solo perché comunque fra i patrocini abbiamo l'UNESCO per i centri per l'UNESCO di Arezzo e di Firenze e di Torino nonché anche la Fondazione Italia Giappone del Ministero degli Esteri.